Voglio ringraziare il Premier e l'amico Joseph per l'ospitalità e per l'occasione che oggi ci ha offerto e ci offre di scambiare dei punti di vista in un momento molto delicato, perché viviamo l'aurora di una nuova legislatura europea e nello stesso tempo la vigilia di un Consiglio europeo, di una riunione del Consiglio europeo che si preannuncia molto importante. Abbiamo toccato vari temi e la nota comune nel trattare i vari temi è stata l'opportunità di una maggiore coesione tra noi e i paesi del sud dell'Europa. Dobbiamo parlarci di più, dobbiamo confrontarci più intensamente perché esprimiamo, come oggi è accaduto sui temi trattati, una sensibilità comune. Sintetizzo, non posso toccare tutti gli argomenti trattati, ne sintetizzo alcuni. Abbiamo convenuto che possiamo sicuramente esprimere come Europa, Unione Europea una forza propulsiva in materia di cambiamenti climatici. Le conclusioni da questo punto di vista del Consiglio europeo dovranno essere ambiziose, ad esempio con riguardo all'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. La sfida su questo argomento è una sfida che non può vedere i singoli stati fare degli sforzi, perché la sfida del cambiamento climatico richiede lo sforzo di tutti. Da questo punto di vista l'Italia è disponibile a fare la sua parte e già in linea con gli obiettivi europei del 2020 e confida anzi di superarli. Ma qui non è tema di chi è il primo della classe, qui è il tema di lavorare insieme in questa direzione strategica e di esprimere, se mi permettete, anche una forza irradiante rispetto agli altri quadranti del mondo. Tra l'altro il tema delle politiche climatiche è un tema che va affrontato in una prospettiva sinergica rispetto a quello delle politiche industriali. Non è possibile lavorare a un aspetto senza anche affrontare il tema della riorganizzazione, rimodulazione delle strategie di politica industriale. Altro tema trattato su cui conveniamo tutti è quello del, almeno così mi pare di poter riassumere, è quello del pilastro sociale. Noi dobbiamo fare fronte comune anche in questo campo. C'è un duplice interesse che ci unisce, un sostanziale riequilibrio fra riduzione e condivisione dei rischi, che sono componenti non alternative ma complementari. Dobbiamo lavorare per una governance economica che sia rivolta alla crescita, da sostenere anche tramite maggiori investimenti pubblici. Non possiamo solo limitarci a guardare all'obiettivo della stabilità nel segno dell'austerità. Il rallentamento economico globale, peraltro, ha un impatto non positivo sulla congiuntura economica in Europa, quindi richiede una risposta europea coordinata. Possiamo lavorare insieme, ad esempio, a forme di tutela, come l'assicurazione europea contro la disoccupazione o un salario minimo europeo. Su questo fronte, peraltro, dobbiamo lavorare sempre più intensamente per rafforzare un'economia digitale. Salutiamo con favore la proposta di un programma pluriennale dell'Unione Europea in materia digitale, Europa Digitale. Dobbiamo contribuire per questa via a una maggiore competitività internazionale dell'Unione Europea e dobbiamo rafforzare le capacità digitali strategiche dell'Europa, le competenze digitali dei nostri lavoratori, perché solo in questo modo l'Europa potrà competere con altri paesi come Stati Uniti, Cina, nella sfida globale. Dobbiamo sviluppare e concentrare i massimi sforzi per lavorare alle nuove tecnologie, intelligenza artificiale, blockchain, high performance computing. Ancora, abbiamo affrontato il tema dei flussi migratori. Su questo, ovviamente, non posso che rimarcare come sia frustrante, a distanza ormai di un anno, vedere come le conclusioni raggiunte all'unanimità nel Consiglio Europeo del giugno 2018 non si siano ancora tradotte in pratica. Siamo, con la nuova legislatura europea, dobbiamo assolutamente raccogliere e superare, vincere questa sfida. È inaccettabile che continuiamo a declamare in astratto solidarietà, ma non riusciamo a tradurla in concreto. Questo crea molta insoddisfazione nei cittadini europei e se creiamo insoddisfazione e contribuiamo a crescere in soddisfazione dei cittadini europei rischiamo di creare sempre più disaffezione dei cittadini europei verso la nostra casa comune. Abbiamo parlato anche di Libia. È un tema questo che ci preoccupa molto perché è evidente che l'instabilità della Libia si traduce anche in un ulteriore focolaio per quanto riguarda l'incremento dei flussi migratori. Dobbiamo lavorare per un cessato il fuoco, dobbiamo impegnarci tutti per affrontare e offrire, contribuire a offrire agli attori libici la via di un dialogo politico che preluda a una definitiva stabilizzazione di quell'area. Dobbiamo anche come paesi del sud dell'Europa lavorare insieme per una rafforzata cooperazione verso il quadrante africano, possiamo lavorare a un partenariato fra pari, tutti insieme, incrementare gli investimenti in questa direzione. Infine, un'ultima battuta per comunicare, per attestare la vicinanza e il pieno sostegno del governo italiano a Cipro, Cipro ha il pieno diritto di esercitare i diritti sovrani, esercitare quindi tutte le iniziative economiche che ritiene per quanto riguarda le risorse naturali che sono nella zona economica esclusiva. da questo punto di vista quindi abbiamo ribadito insieme agli altri amici qui presenti il pieno appoggio e il pieno sostegno a Cipro. Grazie Giuseppe.